...con grande impendigenza e sapienza da Guido Rubino, un collega molto bravo che si occupa di ciclismo già da tanto tempo e molto bello perché leggo un sottotitolo, una bici italiana, qualcosa di personalizzato, di studiato con cura artigianale è un mix di esperienze e di passione, dietro a un telaio, a un manubrio, a una sella, a un cambio italiano ci sono storie di uomini, di campioni, di famiglie, di officine e noi facciamo un in bocca al lupo a Rubino che tra l'altro ha già trovato anche un editore americano per questo volume che racconta i successi del Made in Italy, dei costruttori beh adesso stanno entrando anche marchi americani